Un serio problema si prospetta per i pazienti dializzati assistiti presso il Santissimo Rosario di Venafro. I lavori di restyling in corso d'opera in quel nosocomio stanno interessando anche le stanze dove si eroga il servizio di emodialisi. Da lunedì prossimo fino al lunedì successivo, a causa degli interventi di ristrutturazione, non sarà possibile sottoporsi alla terapia di dialisi. 17 pazienti saranno costretti dunque a recarsi presso l'ospedale veneziale di Isernia per le tre sedute da effettuare in quel lasso di tempo. Lì nella sede dell'unità operativa di nefrologia che normalmente serve una ventina di pazienti si sta predisponendo un turno ulteriore di sedute da dedicare esclusivamente ai dializzati provenienti da Venafro. Per loro dunque sarà necessario fronteggiare gli inevitabili disagi del trasferimento e non da ultimo i relativi costi. In effetti l'ASNEM non ha la disponibilità di provvedere al trasporto in simili situazioni di emergenza. Dunque i pazienti dovranno provvedere autonomamente. E' quanto ribadito questa mattina presso il servizio di emodialisi di Venafro. Da rilevare che nei casi più gravi il trasporto dovrà essere effettuato mediante ambulanza. Il costo ammonterebbe a poco meno di 100 euro a viaggio. Insomma per i dializzati, tra i quali persone anziane che vivono esclusivamente della loro pensione, una ulteriore tegola davvero pesante.